Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario dalla nascita della settembrata abruzzese, liceo di Biase, un grande traguardo, ma volete andare avanti? Questo deve diventare un punto di partenza e non di arrivo sicuramente? Sicuramente in questi settant'anni la settembrata abruzzese è stato il punto di riferimento del recupero e della valorizzazione della tradizione culturale abruzzese. La poesia, il teatro, la musica, l'arte, tutto ciò che ha ruotato dal punto di vista antropologico è stato il punto di riferimento, quindi è stato veramente il luogo in cui c'è stato il confronto sull'Abruzzo, sull'abruzzesità e noi continueremo ormai dopo settant'anni, un'associazione che vive settant'anni, un'associazione che quindi ha dato e ha detto molto all'Abruzzo. Abbiamo avuto personaggi incredibili che hanno caratterizzato questa associazione. Adesso si tratta di rendere più contemporanea la lettura di questa associazione, non più soltanto una lettura del passato, distante, ma collocarlo nella contestualità della nostra contemporaneità. Noi ci rifacciamo sempre, io mi rifaccio sempre nella mia ricerca a una frase di Tostoi, se vuoi essere universale parla del tuo villaggio. Ecco, diciamo che la settembrata tenta sempre di più di parlare del proprio villaggio. Sabato 25 giugno nel campo sportivo della parrocchia Sant'Andrea sarà un evento dedicato a Borgomarino, perché la settembrata ha avuto molto spazio anche a Borgomarino, così come invece poi il 3 settembre lo faremo a Largo Madonna e Sette Dolori e poi l'11 settembre nuovamente a Borgomarino. Ma tra questi due momenti avremo la settembrata itinerante, la settembrata che con i propri poeti, gli alettali, gireranno almeno una dozzina di comuni diciamo in correlazione con l'evento Accendiamo il Medioevo.